Rendere Teramo più accogliente per residenti e più conveniente per i turisti rimetterebbe in moto un'economia cittadina che ha perso smalto in questi anni. È la mission del sindaco Gianguido D'Alberto e dei commercianti teramani che insieme hanno individuato alcuni importanti accorgimenti per rilanciare la città. Prima tra tutti il recupero pedonale di Piazza Dante, anche se parziale, ma indispensabile. Con i commercianti avete parlato di Piazza Dante. Ecco, come tornerà ad essere Piazza Dante? Ci siamo incontrati proprio per anticipare l'inizio di un percorso e definire insieme una strada che, come sapete, ho intrapreso fin dal giorno successivo all'insediamento, su un tema a me molto caro, perché è veramente una vicenda che deve essere risolta subito, una delle vicende più gravi che è stata lasciata dalla precedente amministrazione, con un parcheggio a raso che è stato affidato, diciamo così, senza una scadenza, con una proroga siredie da otto anni, e di cui il Comune di Teramo, l'amministrazione comunale fino a ieri, cioè fino al mio insediamento, al nostro insediamento, non conosceva neppure quale vantaggio economico stesse dando al privato. Sulla base dei dati che verranno fuori da queste verifiche, ovviamente faremo una proposta che, insomma, è una proposta che necessita sicuramente di un'azione finalizzata non soltanto a conservare una quota di parcheggi sull'area, perché abbiamo esigenze importanti relative ai parcheggi, su quella che è un punto nepralgico della città, ma anche e soprattutto la sistemazione dell'arredo e del decoro di una piazza che è stata sventrata nel corso di questi anni e alla quale dobbiamo ripristinare, insomma, ridare un decoro, il decoro che merita. Durante la riunione che il Sindaco d'Alberto ha avuto con i commercianti terramani, è emersa forte la richiesta di rivedere il piano parcheggi, abbassando le tariffe, pubblicizzando quelli di San Francesco e San Gabriele, con l'impegno di illuminarli maggiormente, soprattutto lungo i percorsi pedonali. I commercianti, giustamente, hanno posto il tema, il tema del piano della sosta che finalmente, dopo tanti anni, deve essere approvato e correttamente hanno chiesto, in modo corrispondente ad una riduzione del numero di parcheggi, un potenziamento dei parcheggi esistenti, pensiamo ad esempio ai due megaparcheggi che sono sottoutilizzati e abbiamo già avviato un dialogo con costruttori terramani, in questo senso, per potenziarne l'utilizzo e anche l'individuazione di altre aree in centro storico per attutire questa riduzione. Si è parlato, ad esempio, anche di un tema importante, che è quello relativo al recupero della scuola Savini, con la stessa ubicazione che è attualmente, su cui siamo già espressi nel corso delle settimane precedenti e su cui torneremo a parlare da qui a breve, perché c'è un dialogo aperto con l'USR per l'utilizzo delle risorse, con l'obiettivo di ripopolare il centro storico e creare i presupposti, appunto, per uno sviluppo complessivo del cuore della nostra città. Buoni i propositi dell'amministrazione comunale, che ha anche garantito ai commercianti la costituzione di un ente per le manifestazioni e la riconsegna dell'antico giardino di Regina Margherita, che tornerà ad essere fruibile per l'intera città. Grazie a tutti.